Il mio volto magari non vi dirà niente, ma la mia voce sì, soprattutto quella di quando ero bambino Ciao a tutti, sono Gabriele Patriarca e come forse avrete capito, nel 1993 ero io il bambino che cantava Il coccodrillo come fa allo zecchino d'oro Adesso ho 32 anni e domenica in edicola su specchio ci sarà un'intervista in cui racconto della mia esperienza allo zecchino Di quanto ha influito soprattutto nella mia vita perché la voce è ancora ad oggi il mio strumento di lavoro Riconoscete ad esempio questa battuta? Metterete Grifondoro nei guai un'altra volta, io vi prendo a pugni! Provate a indovinare? L'avete capito? Beh, se non l'avete ancora capito dovete correre in edicola per scoprirlo Un saluto!